Al grande fratello la decisione più brutta sta per scombussolare la casa. Coinvolta una concorrente, che potrebbe dire addio anzitempo alla sua esperienza nella casa più spiata d'Italia. Infatti, è arrivata una comunicazione che non fa affatto piacere alla ragazza, la quale non si sarebbe aspettata di vivere una situazione del genere in questo momento. La sua avventura al grande fratello si sta rivelando più difficile del dovuto e quindi per lei le possibilità di rimanere nel reality show sarebbero ormai ridotte al lumicino. C'è chi sta protestando contro questa possibilità e chi invece è d'accordo. Come sempre ci sono contrasti anche tra i telespettatori, ma intanto sarebbe la ragazza in questione ad essere la più triste. Grande fratello, Giulia vicina all'addio, cosa si è saputo? Sui social si è diffusa immediatamente questa notizia inerente il grande fratello e la concorrente Giulia. Altri geffini potrebbero invece respirare, se queste previsioni dovessero trovare conferme ufficiali. A pagare tutte le conseguenze sarebbe la modella, che dovrebbe preparare le sue valigie, aprire la porta rossa e andarsene definitivamente dal programma. Sul profilo X, Televoti IGF, è stato pubblicato un sondaggio del 16 ottobre sui concorrenti che sono in nomination. Al primo posto c'è Lorenzo col 34% dei voti, segue Shaila col 30% e successivamente c'è Amanda con il 19%, più distaccata Giulia, anche se di poco rispetto alla sorella di Loredana Lecciso, che avrebbe convinto solamente il 17% dei votanti. Quindi, la prossima eliminata potrebbe essere proprio lei. Capiremo solo coi numeri ufficiali del televoto del pubblico se questa indicazione dovesse essere corretta. Ma ovviamente non sono mai da escludere sorprese.